Il silenzio ha fatto festa per le strade della città, ora che anche le fermate si sono fermate. I nostri parchi, le nostre banche, i nostri palchi, come dei giocatori che si marcano larghi, in quarantena con le nostre messe. Le mascherine ci hanno fatto ormai da grandioli in questa grande scuola e ci ricordiamo che siamo tutti uguali. Ci siamo laureati in pigiama, abbiamo visto il prima e il dopo e ogni cameriere è diventato cuoco. Dobbiamo fare attenzione ma non dobbiamo avere paura. Siamo in maschera, non siamo vendati. È giunto il momento più che mai di seguire le regole. Questa è la fase in cui stiamo capendo il valore della libertà e insieme siamo umani più che mai.